Allora, quando vogliamo partire? La mia licenza comincia domani. Bisogna sprecare neanche un'ora, partiremo domani stesso. Voi siete pronta? Prontissima. Ma voi non mancherete, vero? Voi vi vedete tutto il mio patrimonio. Ah, già, è vero. Dove vogliamo vederci? Non so, a casa vostra, se volete. A casa mia, di Roma 10. A che ora? Alle 3, va bene? Io ci sarò alle 2. E io sarò pronta all'una. E allora partiamo a mezzogiorno, no?